good morning anche se direi sempre buonasera sono le quattro meno dieci qui mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's january 17 2022 and it's a monday in naples 57 58 fahrenheit around 14 celsius and this means that non è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo e sì ci sono qualche grado in più e poi invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche giorno fa settimana fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per non soffrirlo cioè per combatterlo non per vincerlo perché è impossibile ma per non soffrirlo a chi appunto mi consentono di non soffrirlo così tanto come lo soffrono magari le altre persone il video sui pensieri e poi sempre separato da questo anyway as you just see from the wind of today meno per me we have once again per la quarta volta consecutiva se non erro those beautiful beautiful blue skies and golden golden sunshine really golden and beautiful blue skies and i think all along the way si all along the way ovviamente fino a sopra giù c'è la serata c'è tra meno di un'ora ma comunque sia anche il cielo è veramente azzurro di dormi o sopra di me ma non si capisce bene c'è anche qualche nuvola ma comunque mi sembra veramente bellissimo continuiamo con questo trend bene così sublime oggi nulla da dire said this so from the mythical window with the colored curtain sublime oggi nulla da dire and it's a green a little shooter behind me on the top or a little shot anche se c'è qualcosa da dire perché il cane la tenda l'ha un po' rotta quindi poi ieri l'altro giorno per facciarsi sempre alla finestra cosa che fa ogni sera portato con la zampa il cane è il pitbull è un cane comunque per tutti comunque per un cane che vuole uccidere da quando l'ha morso quando era piccolo comunque non se ne è accorto è inserito la zampa in questa parte della tenda l'ha rotta quindi spero che comunque non la cambiamo perché sta tenda è mitica vedremo and finally from my mythical keyboard di amati gx 640 ipg ipg 625 have a great day in all the people follow the channel and the reports si un saluto veramente a tutti il video dei pensieri sui pensieri eventualmente è separato da questo so again have a great day in all these people and everyone too and then